vediamo un mino bianco risalita in ultimo posto prima dell'uscita dopo questa bellissima avventura in quelle di città reale grotta città reale speller club di forlì in esplorazione abbiamo praticamente ha sfondato una strattoia e che poi in realtà si è dimostrato che non è andata su una parte comunque un pizzico di forlì gliel'abbia messo in questa esplorazione manca veramente pochissimi minuti di uscita vediamo i nostri eroi fabrizzi bandini presidente del borgo romano un saluto a tutti al borgo romano di terra del sole a tutti adesso chiudiamo il collegamento e riapriamo nella strattore finale che vedremo fabrizio bandini impegnato nell'ultimo sforzo di questo giorno e vai vai vai